Una versione di Valerio Massimo dal Factorum Erictorum Memoraviglium Libri Novem. Sappiamo che Valerio Massimo fu contemporaneo di Diverio, la sua opera non è un'opera strettamente storica, a lui interessa dare degli esempi, degli esempi che ci ripropongono gli Mores Majorum, i costumi degli antenati. In questo caso l'importanza dell'amicizia viene riproposta e il personaggio è appunto questo, Quinzio Crispino. Vediamo un po'. Quid, De Quinzio Crispino Locuar, cuius man suetudine ma potentissimi affectus iratque gloria quatera e non potuerunt. Quid, un interrogativo, infatti c'è un'interrogativa, avevo un'interrogativa diretta. Notare questo Locuar che potrebbe essere un futuro, che cosa dirò, oppure potrebbe essere un congiuntivo dubitativo. e allora che cosa dovrei dire? Che cosa dovrei dire di Quinto Crispino? La cui man suetudine, cioè la man suetudine del quale non poterono scuotere le potentissime passioni, potentissima affectus, iratque gloria. Qui sarebbe forse opportuno aggiungere due virgole. Dico su questa versione quella stessa cosa che ho detto per un'altra di Valerio Massimo. Sono in linea, senza punteggiatura, molto spesso i vocaboli sono attaccati e diventa difficile anche la traduzione. la cui man suetudine non poterono scuotere l'ira e la gloria passioni assai forti. Badium campanum et auspizio benignissime domi sue exceperat et adversa valitudine correttum at tentissima cura recreaverat. a quo post illam nefariam campanorum defezionem in acet pugniam provocatus cum et viribus corporis etanemi virtute aliquanto est superior monere ingratum convincere maluit. Allora, qui non abbiamo particelle subordinanti, quindi abbiamo la principale. La principale che è individuata da exceperat poi c'è anche un et per cui c'è una coordinata, la principale non partiamo da Badium campanum perché è un accusativo aveva ricevuto domi sue a casa sua Badium campanum e ospizio benignissime e con un'ospitalità assai benevolmente lo dobbiamo mettere più in una posizione migliore aveva accolto assai benevolmente a casa sua e nell'ospitalità Badio campano e Recreavera l'aveva curato lui con Reptum preso valetudine adversa da una brutta malattia cura attentissima con una grandissima cura con una grandissima attenzione anche qui fate attenzione è importante la costruzione non posso partire da Badio campano e farlo diventare soggetto di Exceperat Exceperat è sempre lui il soggetto cioè Quinzio Cristino no? e poi ancora Recreaverat Recreaverat aveva curato chi? c'è solo questo di complemento oggetto lui c'è un lui sottointeso colpito da che cosa? da una avversa malattia e quindi abbiamo un ablativo di causa efficiente attentissima cura un ablativo di modo a quo postilla nefariam campanonum defezionem in acert pugniam provocatus dunque vedete che c'è un provocatus una subordinata quindi implicita che potremmo poi trasformarla in una causale essendo stato provocato essendo stato sfidato poi c'abbiamo un cume congiuntivo animertuale quanto a essere superior qui ci vorrebbe un'altra virgola io ne ho messo tantissime punteggiature ma ogni tanto vedo che ne manca qualcuna e poi c'è la principale monere ingrato un po' a vincere malui preferì ammonire l'ingrato che vincerlo allora una relativa qui non può esserci anche perché abbiamo un verbo in forma implicita quindi questo non è so relativo e da questo io qui preferirei una congiunzione diversa ma da questo dopo quella sacrilega defezione dei campani provocato essendo stato provocato a duello in campo aperto cum esset essendo e nelle forze del corpo e nel valore dell'animo alquanto superiore preferì ammonire l'ingrato che vincerlo poi una volta che si è tradotto in questo modo qui dobbiamo rileggerlo qui dice cum esset superior e lo tradotto essendo superiore la traduzione letterale che io ho insegnato anche nel mio manuale ma qui essendo superiore poiché era superiore preferì dopo che era superiore qui non ha né valore temporale né valore causale e allora come tale io non lo posso tradurre col gerundio qui ha valore concessivo pur essendo superiore sebbene fosse superiore è nelle forze del corpo e nel valore dell'animo alquanto superiore notate l'uscita in o di questo avverbio uscita in o perché si trova prima di un comparativo vediamo che cosa dice il protagonista nam qui da di sin quit io tirerei subito via queste incidentali infatti disse e ce li togliamo sono due cose differenti e non mettete mai il discorso diretto con tutto quello che sta fuori dalle virgolette qui dagis demens aut quo te prava cupiditas transversum rapid qui dagis che cosa fai o pazzo o qui abbiamo un quo c'è un prava cupiditas che è soggetto rapid te transversum anche questo è un complemento oggetto retto da rapid transversum non c'è un significato che vada bene sul vocabolario l'ho cercato io l'ho tradotto perverso e qui dato che non può essere un pronome relativo io direi di farlo diventare un avverbio relativo ricordatevi che i pronomi con uscita in o con uscita in a diventano avverbi e l'uscita in o è l'avverbio che esprime un complemento di motaluogo dove rapisce te perverso brava cupiditas la passione malvagia parum aves pubblica impietate furere nisi etian privata lapsus furis io qui direi che è difficile è difficile adesso provo a tradurla letteralmente il nisi mi dà una condizionale e ce l'abbiamo dopo poi abbiamo la principale parum abes furere impietate pubblica letteralmente hai poco e sragionare impazzire per un sacrilegio pubblico allora sostanzialmente vuol dire non ne hai abbasta di fare pazzie con un con un'empietà pubblica parum abes non ti basta hai poco furere per impazzire eh disragionare per una empietà pubblica e qui essendo una una condizionale se non sarai stato preso anche da una pazzia privata che io tradurrei a meno che tu sarai preso anche da una 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 un sacrilegio un sacrilegio privato eh qui la traduzione letterale non c'è potrebbe anche essere questo oltretutto questo fuere potrebbe essere un futuro anteriore come potrebbe essere un congiuntivo perfetto a meno che tu sia stato preso anche da un sacrilegio privato altre soluzioni non ne trovo unus vedericet sembra che uno che uno solo tra i romani quindi romano non partitivo placettivi ti sia congeniale quinzio sul quale in quo esercitare esercitare con sacrilegio questo è un avverbio le armi cuius di cui penatibus quindi il verbo parte da debes devi che cosa tu devi lo scambio di onore lo scambio di onore vuol dire l'amicizia et saluten tua me la tua salvezza quindi tu devi a chi ai penati di quello quindi dato che è un pronome relativo devo mettere ai cui penati i penati è gli dei della famiglia della casa ai cui penati ai penati del quale tu devi sia lo scambio d'onore sia l'amicizia sia la tua salvezza at me fuedus amicizia di que ospitale santa nostro sanguini vestri spectoribus viglia pignora ostili certamine con gradite cum vetant vetant vuol dire vietare fedus amicizie il vincolo dell'amicizia egli dei ospitali questo è il soggetto vietano vietano chi vietano me no poi santa nostro sanguini santa si riferisce al fedus e agli dei sacri per il nostro sangue vili pegni per i vostri cuori cosa vietano costoro congredi tecum combattere con te certamine ostili in uno scontro ostile nemico quindi mi pare che sia chiaro che vetant è un praticato verbale come soggetto ci sono questi fedus e di questo et che mi mette vicino che mi lega a questi due soggetti è rivelativo è rivelativo perché mi fa diventare nominativo di non c'è dubbio che è nominativo perché al limite potrebbe essere un vocativo ma direi proprio che non è il caso e quindi ci fa tutto questo blocco qui da fedus ospitare tutto soggetto questo è il soggetto e il me è il complemento oggetto no anche qui c'era il problema del sancta nostro sangue in diversi e la versione che ho trovato in linea non ha le virgole quindi è vero che si può anche arrivare ma già il latino è un po' difficile questo sancta nostro sangue il sancta è un attributo di fedus e di di e viglia pignora posizione attributo di nuovo di fedus e di di quindi è importante mettere i tra virgole anche per capirne la funzione quindi e ci siamo e ci siamo in concorso esercito fortuito un buon isme impulso prostratum agnubissem applicatum iam cerviti bustui mucronem regocassem anzi e poi ci abbiamo una concessiva che inizia con le e termine agnubissem anche qui le virgole non c'erano e quindi qual è il soggetto la proposizione principale applicatum iam servici bustui anzi avrei ritirato che cosa mucronem applicatum la spada puntata ormai sulla tua testa tui servici busti sebbene e ziamsi agnubissem avessi visto in concorso esercitum in un attacco degli eserciti fortuito e un avverbo per caso e un attacco poi c'è un teso teso te per terra impulso umbonis mei per un colpo del mio umbone l'umbone era la parte centrale dello scudo che poteva anche essere usato come arma bene anche in queste condizioni io non avrei mai affondato la mia spada su di teco e continua a essere celebrato in questo esempio il dono dell'amicizia il valore il virtù della virtù che viene chiamata amicizia tu mergo criminsit ospitem uccidere voluisse meum non eris ospes uccisus questo sit che possiamo tradurre perciò sia tuo il delitto di aver voluto uccidere un ospite io qui metterei qualcosa in più perché secondo me questo è un congiuntivo concessivo e quindi sia pure tuo perciò il crimine di aver voluto uccidere un ospite poi c'è meum non eris ospes uccisus non sarà meum crimen meum crime è sottinteso un mio crimine un ospite ucciso attenzione che ospite si in italiano che in latino due valori ospite è colui che ospita ma è anche colui che è ospitato quindi ospite in questo caso è colui che è ospitato e no no scusate è colui che ospita tuo perciò sarà il crimine di aver voluto uccidere chi ti ha ospitato sostanzialmente a tal modo talura è così non sarà mio il crimine di un ospite che ho ospitato io ucciso quindi questo ospes ucciso si fa da soggetto a eris proinde aliam qua uccidas dexeram quere quogniam mea te servare didicit allora vedete che qui c'è una relativa qua uccidas qui c'è una causale quogniam mea e ha bisogno di un verbo che non sia l'infinito didicit didicit se servare c'è un'infinitiva e poi qui non c'è dubbio che è una proposizione principale perché abbiamo un imperativo e quindi partiamo da questa proposizione principale imperativa perciò perciò quere cerca dexteram aliam un'altra mano qua uccidas con cui con cui con la quale per mezzo della quale uccidere quogniam poiché mia la mia destra didicit mi ha insegnato te servare a salvarti a conservarti anche qui penso che non sia difficile individuare le proposizioni basta naturalmente sapere che quogniam introduce una subordinata causale basta accorgersi che qui c'è una relativa qua uccidas ricordarsi che quando c'è un imperativo lì c'è una principale non c'è dubbio non può essere che è principale con l'imperativo la relativa poi inizia col pronome relativo termina col verbo anche se non ci dovesse essere la virgola come in questo caso che l'infinitiva si trova sempre no no scusate non sempre ma molto spesso incuneata dentro alla proposizione da cui è retta quindi questo quogniam mea di di circa causare regge dentro in grembo questa infinitiva troviamo il soggetto di dedit c'è solo numen celeste poi c'è exitum debitum ora numen celeste è il soggetto la volontà celeste verbo diede utrico uterco utracutrunque non è un dativo mi raccomando la i l'uscita dativa ale dei pronomi e degli aggettivi pronominali ad entrambe debitum exitum la giusta mercede vorrebbe dire il debito il risultato diciamo la giusta mercede si quidio se è vero in quella battaglia vadio optruncatus est fu ucciso quinzio si insigna i pugni a clarus evasit quinzio uscì ne uscì famoso no non c'è bisogno di mettere in nece c'è già questo quinzio uscì famoso po dal non sarebbe con una battaglia con una insigne si potrebbe essere così con la regenza della E allora quinzio uscì famoso da quella battaglia famosa insigne la E di questo evadere regge insigni pugna per cui diventa un complemento di moto dal luogo e clarus un complemento praticativo del soggetto quinzio ne uscì famoso se poi queste traduzioni non sono sufficientemente chiare suggeritemi come potrebbero essere più chiare cosa si potrebbe aggiungere togliere togliere di questo si potrebbe di questo si potrebbe Grazie.